Ciao a tutti! Oggi prepareremo le Gnog. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono tuorli, panna fresca per dolci messa 45 minuti in congelatore, latte intero, zucchero a velo, aroma di vaniglia, brandy, rum, cannella e noce moscata per sfolverizzare. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere la panna ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3 senza misurino. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. Abbiamo lavato ed asciugato bene il boccale e abbiamo rimosso la farfalla. Mettere lo zucchero a velo e i tuorli ed azionare il bimbi per 6 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere l'aroma di vaniglia ed azionare il bimbi per 5 minuti 70 gradi velocità 4. Aggiungere il bimbi per 3 minuti. 70 gradi. Velocità 4. Lasciare intiepidire. Il composto ha raggiunto la temperatura di 37 gradi. aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 2. l'egnog è pronto. Trasferire nei bicchieri, spolverizzare con cannella e noce moscata e servire. Eggnog. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.